Un centro storico quasi addobbato e trasformato in un giardino, come osserviamo, grazie alle aziende florovivaistiche della zona e gli artigiani. Cortona ha ospitato una nuova edizione della Fiera del Fiore e del Rame. I banchi hanno occupato soprattutto la zona di Piazza Garibaldi, Piazza della Repubblica e Piazza Signorelli. Tante curiosità, tante anche opere e prodotti della maestria artigianale locale, quindi il modo migliore per presentare anche oggi il nostro centro storico, valorizzare i nostri florovivaisti del territorio e dare quindi anche un'immagine di Cortona che potrà essere veicolata ancora una volta nel mondo, trasmettendo quello che è la bellezza della Toscana, la bellezza di Cortona e quella voglia di dare ospitalità e valorizzazione del senso del bello. La fiera è promossa dall'amministrazione comunale, da confesercenti e dal Consiglio dei Terzieri. Un evento caro ai cortonesi, quali ne hanno approfittato per passeggiare nel centro storico e per soffermarsi intorno alle bancarelle. Oltre agli americani che comunque tuttora la padroneggiano, abbiamo avuto però anche presenze sudcoreane, taiwanese, taiwanesi e qualche tailandese. In un ambito più europeo invece tanti francesi, tanti spagnoli e del nord Europa. C'è stato ieri l'offerta dei ceri, venerdì sera la colata dei ceri con tutti i quintieri che hanno partecipato e c'è stato veramente un espload del gruppo storico che quest'anno si è presentato in piazza con addirittura 11 chiarine e è stata una grandissima manifestazione per Cortona. Grazie. Grazie. Grazie.